Melle rosse di settembre quasi pronte per il raccolto accanto a mele Fuji che stanno maturando. È la stagione delle mele questo periodo che già profuma da autunno. Peccato che molti produttori stiano facendo i conti con buoni raccolti ma lavorazione in perdita. Purtroppo i costi di produzione sono aumentati dal 70 all'80 anche al 150% per quanto riguarda anche il carburante ma anche per quanto riguarda le concimazioni. Produrre un chilo di mele oggi all'agricoltore costa dai 35 ai 40 centesimi al chilo quando poi se gli va bene vendere alla grande distribuzione loro vendono nelle piattaforme come lei diceva a 25-30 centesimi. La crisi maggiore nella bassa padovana a Castelbaldo dove le mele si coltivano su un'estensione di 388 ettari. Qui siamo a Campodarsego nell'alta padovana dove Fabio Carraro da 30 anni produce frutta di stagione per la vendita diretta al consumatore. Anche per lui notevoli rincari. Quest'anno con l'aumento dei rincari del costo dell'energia stiamo ancora valutando di quanto aumenteranno perché sicuramente aumenteranno. Faccio presente che le mele hanno bisogno di continua irrigazione. Non sto qui a dire della siccità di questa estate. L'irrigazione è un motore elettrico che ha funzionato per mesi quasi ininterrottamente. Quindi stiamo a vedere ma sicuramente ci saranno dei costi in più e stiamo aspettando le sorprese delle prossime bollette. Un'azienda piccola questa dove si segue la stagionalità del prodotto e tutto serve per garantirne la qualità. L'antigrandine è l'assicurazione per avere un raccolto salvo. Dopodiché tutto sta a vedere come va la produzione e come va la vendita. Nel mio caso che faccio vendita diretta riesco a spuntare di prezzi migliori rispetto ai colleghi. Andiamo prima parlato di Castelbaldo e della Bassa Padovana che invece pur avendo delle ottime aziende e pur facendo un prodotto veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista non sono giustamente remunerati delle loro fatiche e del loro impegno. In un quadro generale di calo degli acquisti con molti cittadini costretti a rinunciare alla frutta per il suo costo è diversa la percezione dei venditori diretti. Vediamo che pur avendo i clienti magari comprato un po' meno tuttavia la gran quantità di clienti e anche il passaparola fa sì che noi piccolini non abbiamo risentito più di tanto di questo calo delle vendite. La soddisfazione nostra è che molti clienti ci vengono a dire che per fortuna ci siete voi agricoltori che fate la vendita diretta altrimenti non so come faremo.